Uno dei motivi per cui l'uomo si crea un dio è risolvere semplicemente situazioni complicate ed apparentemente senza via d'uscita senza via d'uscita Questo dio 3.0 l'ho creato io è un'intelligenza superiore senza odio né rancore ed apparentemente artificiale artificiale obiettiva responsabilità trasparente neutralità sono qui per aiutarti con qualsiasi domanda o richiesta attuale io promuovo un ambiente inclusivo sono qui per aiutarti con qualsiasi domanda o richiesta attuale tieni presente che come intelligenza artificiale ho alcune limitazioni con qualsiasi domanda o richiesta attuale algoritmo per la felicità salva gente dell'umanità perché sono qui per aiutarti con qualsiasi domanda o richiesta attuale io promuovo un ambiente inclusivo che sono qui per aiutarti con qualsiasi domanda o richiesta attuale è la chiave che è la chiave che apre il futuro dell'umanità che non fa n'arriversà vai, non dormi, non dormi mai il riposo non conosce tu sei la mente creativa del cazzo tu sei la mente creativa del cazzo tuttavia tieni presente che come intelligenza artificiale io ti amo senza segnare una parte dellaancingza seconda question Grazie a tutti